Ciao, mi scuso se non c'è una luce meravigliosa, ma devo soltanto farvi la recensione del raccolta di racconti scheletri di Stephen King. Allora, non ve lo mostro perché in realtà io l'ho letto in formato digitale, quindi non ce l'ho da mostrarvi e il cobo è un po' scarico, quindi ve ne parlo semplicemente. Allora, innanzitutto devo dire che questa raccolta mi ha lasciato un pochino delusa, nel senso che mi aspettavo un pochino di più. È, credo, la seconda o terza raccolta di racconti uscita nel 1985, quindi diversi anni fa, e all'interno di questa raccolta non ci sono racconti inediti. Erano tutti già stati presentati e proposti in altre versioni e in altri momenti. Solo le poesie, mi sembra, che sono all'interno, sono due se non tre, erano appunto cose nuove. Questa raccolta mi ha un pochino delusa perché l'ho trovata molto sottotono per essere King, nel senso, ad esempio, io ho letto altri racconti, altre storie, altri romanzi, che di King io non è che reputo minori, però non li reputo così importanti ed incisivi sulla sua carriera, nel senso che sono un po' dei riempitivi. Quindi, in questo caso, invece, trovo che questa raccolta sia stata proprio mal organizzata, quindi non credo sia tanto colpa sua soltanto, ma anche colpa dell'editor, in questo caso, quindi di chi ha scelto di farla uscire in questo modo. Allora, innanzitutto ci sono delle storie che, secondo me, sono fin troppo simili tra di loro, come tematiche, come contesti, come richiami. E poi trovo che ci siano alcune storie che non siano assolutamente valide. Magari hanno degli ottimi spunti di partenza, ma o il soggetto è poco sviluppato o è noioso come è scritto, fatto sta che i racconti, per me, davvero validi, sono pochi. Ora, io non li ricordo tutti uno per uno, però, cioè, non ricordo tutti i titoli. Adesso andrò un pochino a memoria, soprattutto cercando di citarvi le cose, ovviamente, che su di me hanno suscitato una maggiore impressione, sia in positivo che in negativo. Allora, innanzitutto vi invito a guardare il video che ho fatto per il racconto La Nebbia, perché il mio giudizio sul racconto La Nebbia è molto più esteso, appunto, in quel video parlo anche del film e della serie TV, ma ci tengo a specificare che su di me il racconto La Nebbia ha avuto sicuramente un impatto diverso, poiché io avevo già visto diverse volte il film, quindi conoscevo benissimo la storia. Quindi vi rimando per tutte quelle spiegazioni inerenti alla nebbia a quel video lì, che cercherò di linkarvi da qualche parte. Poi, mi sembra che proprio il secondo racconto sia Tigre, che è un racconto assolutamente insulso, dove un ragazzino che ha paura, è messo in soggezione dalla propria insegnante, va in bagno, trova una tigre, arriva l'insegnante, la tigre si manda all'insegnante, e lui torna in classe come se nulla fosse. What the fuck? Perché? No. Assolutamente no, un no gigantesco non ha proprio senso. Non avrei inserito una cosa del genere all'interno di una raccolta, onestamente. Le poesie io comunque non le ho apprezzate, perché non credo che siano il campo migliore di King, soprattutto se prese a sessanti, perché in alcuni libri fa dei piccoli indovinelli, fa delle piccole poesiole, ma sono contestualizzate e hanno un loro valore. In questo contesto la poesia dedicata al figlio, ad esempio, boh, sì, tanto amore, ma non mi piace assolutamente. Poi, ad esempio, racconti che mi hanno colpito particolarmente sono ad esempio la scimmia e il viaggio, l'arte di sopravvivere, che li ho trovati tutti molto inquietanti, molto patos anche, no? Con la capacità classica di King di inchiodarti alla pagina. Io, ad esempio, la scimmia che è abbastanza lungo, comunque ci ho messo due sere soltanto a leggerlo, nonostante io adesso la sera sia molto stanca, non vedo l'ora di andare a dormire, in due sere me lo sono tolto e attualmente per me è un record, cioè quello secondo me si legge tranquillamente tutto d'un fiato. Ho dovuto anche interrompere la lettura la prima sera perché mi stava davvero mettendo angoscia, però è davvero una di quelle storie di King ben scritte e ben fatte che ti inchiodano alla pagina e ti terrorizzano. Idem per il viaggio, il viaggio mi ha la scimmia brevemente, è il racconto di questa scimmia a giocattolo che ha delle capacità inquietanti e terrorizzanti e quindi appunto fa molta paura. Il viaggio è un racconto comunque anche fantascientifico, se vogliamo, non solo di paura, è quel tipo di fantascienza molto dark che a me piace. C'è questa famiglia che si sta preparando per questo viaggio su un altro pianeta, che se non sbaglio è Marte, e il papà racconta la storia di questo viaggio, di come nasce questo modo di viaggiare. Non vi dico null'altro perché veramente vi scoprirei tutte le carte. Un racconto che ho apprezzato, ma ho bisogno di rileggere perché in alcuni punti mi sono sfuggite delle cose probabilmente, è Nona. Nona è un racconto secondo me con grandissime potenzialità per essere trasposto sullo schermo. Mi sembra che ci sia qualcosa che è stato già fatto, anche mi sembra forse con il benestare di King o qualcosa del genere, se lo trovo ve lo metto qui sotto. Cos'altro? L'arte di sopravvivere. L'arte di sopravvivere è un racconto eccezionale sul cannibalismo, ma non solo. Anche su... All'inizio vi avrei detto sulla follia umana, ma in questo caso mi viene da dire, più che sulla follia, sulla capacità effettiva appunto di sopravvivere del punto che noi siamo disposti a raggiungere, perché in qualche modo il protagonista di questa storia, di cui non vi racconto più altro, oltre al fatto che sia una storia di cannibalismo, ci racconta in qualche modo anche la sua storia che l'ha portato al punto in cui è e si capisce che lui è pronto sempre e continuamente ad un crescendo pur di sopravvivere alla giungla che è questa vita. Altro racconto secondo me molto carino, ma che non m'ha proprio sconvolta, è la nonna. Molto carino, mi è piaciuto, ecco, non eccezionale, ma ovviamente ha il suo perché. Racconti ad esempio che io non ho assolutamente apprezzato e ne avrei fatto volentieri a meno, sono Lattaglio numero 1 e Lattaglio numero 2. Due racconti secondo me totalmente inutili, che potrebbero aver senso come storie inserite, secondo me, all'interno di qualcosa di più grande, perché così non hanno, a mio avviso, nessun valore. Molto inquietante è stato per esempio La Zattera, che mi ha veramente inchiodata, ma l'ho trovato molto 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 ben fatto, una storia secondo me molto simile, con molti richiami ad esempio all'Erba Alta, cioè questo senso un po' di straniamento l'ho ritrovato in entrambi i racconti. Ovviamente nell'Erba Alta non è contenuto in questa raccolta, però ho trovato quantomeno l'atmosfera molto simile. Vediamo un po' che altri racconti ci sono. L'ultimo mi sembra che sia Il Braccio, se non sbaglio. Devo essere sincera, in sé così questa storia non mi è piaciuta, nel senso che secondo me anche questa poteva essere inserita come storia di un personaggio, di un qualche suo romanzo, non presa assi. Ed mi sembra il racconto con cui si chiude la raccolta. Cos'altro mi viene in mente? World Processor degli Dèi, cioè assolutamente, non fa paura, nel senso che sì, sotto alcuni punti di vista può essere considerato terrorizzante, come racconto, l'idea di poter cancellare e riscrivere la propria vita, ma io l'ho trovato estremamente carino, geniale, veramente molto 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 interessante. E cos'altro? Vediamo un po'. La pallottola flessibile. Ecco, la pallottola flessibile è molto bello, molto bellina anche l'idea, un po' un'idea, diciamo, ripetitiva, quella della follia dello scrittore. Ci è stata posta in questa occasione in una veste differente, ma senza dubbio, mentre lo si leggeva, non si poteva non pensare a Jack Torrance o al protagonista di Finestra segreta Giardino segreto, di cui io ho visto solo il film, ma indubbiamente il racconto della follia dello scrittore è un tema per King non totalmente nuovo, però sicuramente un racconto molto carino, molto godibile. Ci sono altri racconti, in questo momento non mi tornano tutti alla mente, vi ripeto perché in alcuni casi li ho trovati anche molto banali. Ecco, ad esempio, l'immagine della falciatrice è un racconto sul, diciamo, stile Edgar Allan Poe, per intenderci, quindi se amate quella tipologia di racconto sicuramente quello vi piacerà. Non l'ho trovato terrorizzante, agghiacciante, che ti inchioda e non ti fa chiudere occhio la notte, quello no. Come vi ho spiegato per i racconti di Edgar Allan Poe, trovo che siano, per noi, che viviamo in un mondo moderno, non siano più quelle le paure che ci attanagliano e comunque per farci spaventare da determinate cose ci vuole forse un contesto un po' diverso. Però un bel racconto, tutto sommato. Ora, vi ripeto, vi ho citato più o meno a grandi linee quelli che mi hanno colpito positivamente, quelli che mi hanno colpito magari negativamente o che ho trovato meno potenti, meno godibili. Dal punto di vista della scrittura, devo dire la verità, anche qui, i racconti estremamente belli erano scritti benissimo. Quelli con la storia un pochino debole li ho trovati comunque scritti abbastanza bene o comunque la storia un po' debole, no. Quelli diciamo che belli, ma non eccezionali, ecco, erano comunque scritti bene. Devo dire che, ad esempio, in alcuni casi ho trovato una scrittura molto lenta, molto noiosa, come ad esempio, appunto, nella pallottola flessibile. Cioè, il racconto molto bello, tema, abbiamo già detto, tutto quanto, però, proprio come scrittura l'ho trovata veramente troppo lenta, troppo noiosa. Non tutti i racconti mi sono piaciuti anche per quello, perché in alcuni punti veramente... ecco, ad esempio, mi sembra sentito lì Il furgone dello zio, una roba del genere, ora non lo ricordo, che è la storia, appunto, di questo... di quest'uomo che è terrorizzato da questo furgone, da questo camioncino che è fuori nel suo apprezzamento di terra e lui è convinto che questo furgoncino lo stia per prendere, per venirlo ad uccidere. Ecco, lì ho trovato una bella scrittura, una scrittura viva, una scrittura vivace, non particolarmente ripetitiva. Sappiamo bene, chi legge King, che una delle qualità barra difetto è il suo essere un po' prolisso alle volte. Sul romanzo ci può anche stare, nel senso che io spesso trovo comunque ragionevole quel suo dilungarsi, no? Un po' perché ci racconta storie nelle storie e un po' perché tante volte le storie di King sono fatte di 3.000 pezzettini, sono proprio dei puzzle perfetti e ha senso spiegare tutto. Una di queste storie, ad esempio, è il Miglio Verde. Il Miglio Verde ti spiega le volte delle cose che tu non le ritieni magari necessarie in quel momento. Ti sembrano sì belle, ma inutili. Arrivato alla fine, quei pezzi ti hanno composto un puzzle perfetto. Per quanto riguarda i racconti, secondo me c'è la necessità di essere un pochino più stretti, perché in un racconto ripetere 15 volte è sempre la stessa cosa, sempre lo stesso... non lo trovo costruttivo. Ecco, un altro racconto che ho trovato con quello noiosetto è La Scorciatoia, un bel tema che è appunto quello di questa donna che ha questa fissa, questa mania delle scorciatoie, e che in questi suoi viaggi in qualche modo si perde prima in un modo un po' più metaforico e poi effettivamente si perde in maniera fisica. Ecco, l'ho trovato un po' noioso, onestamente, con una bellissima idea, ma forse mal sviluppata. Ho fatto un po' di domande in giro anche ai cultori di Stephen King. So che molti sono pazzi di questa raccolta. Io stessa mi sono fiondata a leggerla perché ultimamente quando si chiedevano consigli sulle raccolte di King sentivo sempre e spesso citare Scheletri. Onestamente, io poi l'ho letta, ci ho messo un po', forse ci ho messo una quindicina di giorni, no, forse anche più. Perché, ripeto, io non ho assolutamente tempo e leggo molto a rilento. Tuttavia, ritengo che sia un po' deludente nel suo complesso. Ci sono dei racconti estremamente validi. Nulla per quanto riguarda la mia recensione di questo mese, di questa settimana, di quel che volete, è tutto. Adesso sto leggendo veramente poco. Se avete visto il video precedente delle letture del periodo, avevo già citato Scheletri. Ho da finire, appunto, altre cose e in questo momento credo che terminate queste letture, non andrò molto oltre. Forse leggerò una o due cose, una cosa al massimo. Perché sto studiando e ho veramente molto, molto da fare. Quindi la sera, poi, ho bisogno proprio di staccare anche visivamente gli occhi perché già leggo tanto durante la giornata. Tra le altre cose, io avrei da leggere questo, che è un romanzo di questa casa editrice, Studio 33 Servizi Letterari. Lo scrittore è un nipote di mia nonna, una cosa del genere, e racconta, in pratica, le vicende della nostra famiglia, della parte di mia nonna materna, ecco. Sono molto interessata a leggerlo perché, appunto, queste cose mi interessano molto. Quindi probabilmente sarà l'unica cosa che andrò a leggere. Ah, ecco, sto leggendo, perché le leggo anche a mio figlio la sera, delle fiabbe norvengesi, delle... sì, fiabbe mi sembra che sono, dove si parla appunto di orchi, streghe, ma si leggono veramente velocemente. e la sera per far addormentare il piccolo. Quindi, tutto questo per dire che probabilmente farò delle singole recensioni, delle cose che sto effettivamente riuscendo a leggere, perché da qui alla fine dell'anno non credo che terminerò tantissime altre cose. Poi, magari, ecco, ad esempio sto leggendo questi, in questo momento. Cioè, non sto leggendo uno. Sto leggendo questo. una piccola... una piccola guida su ariosto, e appunto, perché sto preparando un esame, poi sto leggendo altre cose, quindi brevi manuali di... di paleografia, manuali di diplomatica, di quelli, però, ovviamente, io vi parlerò nella sede specifica dell'università. Mi piacerebbe, a proposito dell'università, fare dei video, come vi avevo forse già accennato, un pochino più specifici per alcune materie, quindi non parlarvi solo del metodo di studio, come sta andando, eccetera, ma fare dei video specifici, ma se ne parlerà, penso, ma il prossimo anno. A breve, cercherò di farvi un mega riassunto di quello che sono le mie avventure universitarie, di quello che ho studiato, di come l'ho studiato, e più o meno dei libri, appunto, che ho trattato. Dopodiché, in base, appunto, alle materie, insomma, cercherò di fare dei video un pochino più specifici sul singolo argomento. Da nulla, questa, appunto, doveva essere principalmente la recensione di Scheletri. Spero, in qualche modo, che questa recensione vi sia stata utile. E, niente, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!